Back in ETV Bentornati su Balconi TV Sassar, io sono Laura e con noi oggi Daniela Pest. Ciao Daniela! Ciao, ciao a tutti! Che ascoltiamo? Un mio pezzo si intitola Close to You. Benissimo, enjoy the show! Tic tac... Tic tac... Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca Oh, hiya, long, long, long Ataca, ataca Ataca, ataca Ataca, ataca Ataca, ataca Ataca, ataca Ataca, ataca 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 Grazie.